Da Monsignor Severino Pagani alla figura del love giver. È un convegno coraggioso quello promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con il centro di urno Belotti Pensa sabato 21 ottobre alle 9.30 ai Molini Marzoli di Bussorsizio. Coraggioso poiché in una città peraltro piuttosto tradizionalista tratta senza ipocrisia da vari punti di vista una tematica che è sempre stata tabù, l'affettività e la sessualità nella disabilità. Senza giudicare, senza voler imporre qualcosa, ma per informare le famiglie finora sole nell'affrontare la delicata questione, come inizio di un percorso di maggiore consapevolezza. Il progetto parte con questo convegno e poi si declina in una serie di incontri con psicologhe educatori rivolti ai genitori, ai ragazzi in maniera privata, in maniera diretta, ognuno con i propri problemi e l'accompagnamento alla risoluzione. Le famiglie sono tante, le famiglie non vanno lasciate sole. Anche su questo argomento l'assessorato ai servizi sociali e il Comune di Bussos c'è. Io spero che tutta la città ci sia.